Perché mi sento molto bilanciata Prima c'è una scorciatoria 34 chilometri a piedi Ah siamo già al rifornimento volante? Cari amici che ci seguite da casa Stiamo aspettando le nostre camminatrici Che tra un po' dovrebbero sbucare da quel buco Mentre invece vediamo la seconda camminatrice Cioè la terza Tu come mai sei già qua? Prima c'è una scorciatoia Ecco vediamo la maratona della Val Brembana Le prime due Redona contro Piazza Torre Redona lascia vincere il Piazza Torre Oh c'è la giusta la fila della borsa Eccole le nostre eroine Sono loro sono loro Ragazze da dove arrivate? Da Bergamo Ah neanche San Pellegrino proprio c'è 34 chilometri a piedi Non come voi turisti Guarda lì che turista fai Oh ma come ti stanno bene i miei occhiali De Noartri E a che ora siete partite da Bergamo? Sarà tre ore Così occhio e croce Ah ma hai lo stesso mio orologio? Sì Perché mi sento molto bilanciata Ed equilibrata Te c'hai bisogno di equilibrio Ah siamo già al rifornimento volante? Certo Sì ma lascia perdere il rifornimento Quanto? Perché mi sento molto bilanciata 4 chilometri a piedi Sì sì ma Grazie a tutti Grazie a tutti